Allora ciao a tutti, oggi ho un ospite d'onore, vi faccio... eccolo, sapete chi è? Giorgino, Giorgino, che stia facendo esattamente, che cosa? Al Cotecchini, i cotecchini tipo Modena, dico bene? Signor sì. Bene, come vedete il vino non manca e abbiamo anche quelli già pronti. Quindi, presto uscirà il video sul canale, non perdetevelo. Ciao a tutti!